Un danno ambientale che solo per i due comuni più vicini, Conversano e Mola di Bari, vale 100 milioni di euro. È cominciato con l'udienza preliminare per le 11 persone e le due società coinvolte il processo sul presunto disastro ambientale della discarica di Contrada Martucci. Il sito, sotto sequestro da oltre un anno, secondo i carabinieri avrebbe inquinato la falda acquifera perché non costruito secondo le norme previste, facendo così penetrare nel sottosuolo il percolato. Un danno enorme qualora accertato per tutti i comuni coinvolti che infatti hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo. A Conversano e Mola di Bari si sono aggiunti anche Polignano a Mare, Trigiano, Accoiva delle Fonti, Adelfia, Valenzano e Bitonto, oltre al Ministero dell'Ambiente, la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari e Lega Ambiente Puglia. Sotto accusa gli imprenditori Rocco e Paolo Lombardi, titolari della società Lombardi Ecologia SRL, proprietaria della discarica di Contrada Martucci, e altri nove tra tecnici e funzionari pubblici. Per loro le accuse a vario titolo sono di falso ideologico, omissione di atti di ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture, gestione di rifiuti non autorizzata e disastro ambientale. L'udienza è stata rinviata al 16 febbraio e al 2 marzo con la congelazione dei termini di prescrizione. Il presidente di Lega Ambiente Puglia punta il dito contro chi non ha fatto abbastanza per evitare il collasso, non solo di Conversano. La media percentuale regionale di raccolta differenziata è ancora troppo bassa, accusa Francesco Tarantini per la mancanza degli impianti di compostaggio per il recupero della frazione umida. E i continui rinvii dell'ecotassa che avrebbe dovuto penalizzare economicamente l'interramento dei rifiuti hanno aggravato la situazione. Con il ciclo dei rifiuti fondato prevalentemente sull'uso della discarica, ha aggiunto il presidente di Lega Ambiente, l'emergenza è sempre dietro l'angolo, un riferimento non proprio indiretto alla regione che è paradossalmente fra gli enti che si sono costituiti parte civile nel processo.